Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video Questo è un video molto serio rispetto agli altri che ho pubblicato finora Si, è molto serio E praticamente è un video, non lo so Praticamente di che parlare E niente, se vi vedete così non è che ho fatto a botte con qualcuno Ma semplicemente mi sto facendo una maschera di bellezza contro I punti neri E si, perché tra due giorni è il mio compleanno come sapete Quindi vi sto preparando a questo... evento Quindi Diciamo che sono un po' in ascia perché mancano due giorni Quindi l'Asia fa brutti scherzi E io Vado appena ci vedo Che dire ragazzi Il video finisce qui A presto ragazzi